Io, come avrete notato, ho mantenuto la linea rigorosa del silenzio, che voglio continuare a mantenere. Il 5 maggio è un evento importante per Forza Italia, come è stata la convention di Napoli e come è stata quella prima ancora di Roma. Questa è a Milano, quindi si fa al nord ed è una manifestazione che raccoglierà tutto il partito. Stiamo valutando e stiamo facendo ovviamente il programma per il 5 e il 6 maggio, probabilmente lo definiremo in base alle competenze dei nostri ministri. Quindi avrà una collocazione precisa, cioè cosa ha fatto Forza Italia e il governo come forza di governo in questi sei mesi. E quindi Forza Italia si prepara a una convention che riporta i militanti e riporta gli eletti in una o due giorni, dopo diversi mesi. Perché l'ultima Napoli, ricordiamo, è stata a maggio dell'anno scorso. Quindi dopo un anno una nuova manifestazione di collocazione nazionale. Noi ovviamente ci auguriamo che il Presidente possa esserci, ma se non ci sarà perché giustamente la salute viene prima di tutto, noi gli faremo sentire da quel palco il nostro affetto.